Più di 5 ore di lavoro con 250 persone tra operatori culturali, cittadini, artisti per questa Maratona della Cultura che si svolge nel nuovo teatro, all'Opera di Firenze. Sono già emersi molti spunti sui problemi e sulle soluzioni dai 7 tavoli che sono dedicati a altrettanti ambiti che riguardano la cultura, dal rapporto tra pubblico e privato alla formazione e alla produzione culturale dal tema degli spazi pubblici estivi e invernali all'internazionalizzazione e alla ricerca di fondi privati. Questo è il metodo con cui intendiamo lavorare, ascoltare per decidere e decidere per innovare, per cambiare, migliorare la città partendo dalla risorsa più grande che abbiamo, ovvero la cultura.